Ebbene eccoci qua con un bel raffreddore che non ci fa mancare nulla ovviamente Siamo qui con il video summon su Big Mom ragazzi ho detto vabbè dai facciamo il contenuto Magari proviamo a scullare all'extreme che ho detto ma si dai puliamo Si rischia laga si rischia e via così dai vai prima multi No ottimo dai vediamo 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 Brucchezzoro, bauli oro va bene Va bene, bandiera oro ok Ha dei buoni pergiù posti per essere una ulti Grove 27, il Grove un po' meno Pull rosso e via Luffy Gear 4 attaccante, chi è uscito? Koala Le faccio sicuramente a meno Ok Ok Runner, Luffy Gear 4 No non può essere Big Mom perché deve essere base defender Ciò per mamma mia sto ciò perché già ho al 100 Mamma mia vabbè Qua solita roba inutile Benissimo Ecco qua buggy Krieg Vabbè raga prima multi decisamente Molto 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 bruttina Molto molto bruttina Molto molto bruttina Molto molto bruttina Vabbè Via seconda multi Nessun baule, nulla di nulla GG Bandiera rossa Ok Groove 14 Ah Ah Pull, ah pull oro Pull oro Pull oro Vediamo Tashigi Hachan Asop Due stelle Pruk Vida Certo che veramente vedresti PG Cioè chiaramente sono PG banali e stupidi Che devono uscire per forza nel sum Però Veramente vederli per me è sempre imbarazzante Veramente Vabbè Primo ticket preso Ok Pull da 30 Vabbè almeno ci hanno messo la pull da 30 Giusto per farci risparmiare un pay Mamma mia Che maledetti Sono proprio dei maledetti Oh Bauli oro Bandiera oro Nami e Sanji Groove 32 Quindi ci sono le giostre Benissimo Pull blu Ma perché Perché Dove essere un bel pull oro Vabbè Ok Cabagi Un altro cabagi Mamma mia Mamma mia Cosa sta schifezza Attaccante Vediamo che è uscito Kid Mamma mia Cioè il kid proprio più inutile del Del gioco Vabbè Al centro comunque potrebbe tornare utile Al 95 Beh adesso Non so Beh se va al 100 Per la panca Ci potrebbe stare Perché a grand line Attaccante Paramicia Ci sta Ci sta al 100 Per la panchina Questo qua Worst generation Quindi no Quindi no Non si butta Dai quel kid Non si butta Quarta Quarta Multi Vai Dai Bauli Mamma mia Che bauli Imbarazzanti Bandiera rossa Robina e Sanji Groove 32 Però Quindi ci sono le giostre Bene Pull rosso Pull rosso Krieg Ok Vabbè 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 Akaino Wow 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 Akaino Ragazzi Akazuki Pazzesco 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 Vabbè Ci prendiamo Vabbè Prendiamoci Sta big mom free A caso Prendiamoci Sta big mom free A caso Magari facciamo Cambiare un po' Sto Algoritmo Ma si Facciamoci anche Questa free pull Che tanto va fatta Comunque Skip Meglio Skipare Eh si 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 Vabbè Bene ragazzi Possiamo tornare Da Charlotte Linlin Possiamo tornare A pullare Dalla nostra Carissima Charlotte Linlin Ok Vabbè A questo punto Faccio un altro giro Più altre due multi Così arrivo Al ticket Da dieci Capito Così faccio la prima Pull nel ticket Garantito E poi basta E poi assolutamente Non ne vale più la pena Anche perché Insomma arriverò Giusto giusto A 3000 gemme Perché quelle 3000 gemme Appunto sono la mia base Per l'anniversario Quindi Oltre non andrò Oltre Non andrò oltre Alla fine ho detto Ma si pullo Così faccio Un contenuto Per il canale E faccio E magari se scullo L'extreme Insomma Ne giovo All'account Tutto qua Ma chiaramente Come potete vedere Non sta andando Per niente Per niente Bene Qua schifo ancora Perché vedere Soltanto Luffy Da solo Mi ha hurtato L'animo Ma Quarto Quarto step Quarto step E dopo devo fare Altre due multi Dopo Porca miseria Porca miseria Ok Vai 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 Franky Ah Bauli Oro Ok Dai speriamo bene Una bella bandierina oro Buono 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 Groove 32 Quindi ci sono anche le giostre Pull osso Pull rossissimo Attaccate Ma perché Deve uscire Defender Snakeman Bellucci verde Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Guarda qua Garp Garp Ma perché Garp Perché Garp Cosa me ne faccio io di sto Garp All'86 Mamma mia Pg Ormai inutile Veramente E adesso No Vedi Non ho ancora Ti devo fare per forza Ste altre due multi Porca miseria Vabbè 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 Ragazzi Si pula Si continua A pullare Io vi ho evito Lasciare un like Iscrivervi al canale Attivare la campanella Notifiche Iscrivetevi sotto Voi nei commenti Se voi avete pullato Da big bomb E l'avete trovata Insomma ragazzi Dai fatemi sapere Mi raccomando Ragazzi Ho portato un video pull Ho speso del gem Mi raccomando Supportatelo al massimo Supportatelo al massimo Veramente Dai Qua dovete supportare Mamma mia Un altro luffy Senza niente Ma perché 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 Vabbè Groove 27 Va bene Pull oro Pull oro Attenzione Pull oro Tashighi Ok Bene Vabbè Skip Skip Ok Mamma mia Mamma mia Bene Ragazzi Adesso puliamo Sto ticket La finiamo qua Vai pull Da 10 Vai Dai Ovviamente Pull o comunque Sullo suo step Anche se Non cambia nulla Anche perché Comunque col banner Ho letteralmente chiuso Quindi Poco senso Allo stesso Vabbè Detto ciò Ok Pull Vai Mamma mia Nessun baule Nulla di nulla Bandiera Nera Proprio Già Dalla Salmon Vabbè Pull oro Vai 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 Runner Chiaramente Non è Big Mom Eh vabbè Luffy Snake Ma Red Signori Mi raccomando Supportate al massimo Questo video Visto il grande Shaft Visto Supportate Ragazzi Supportate Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo